Ma Rozzi, se ricordo bene, non aveva la scorta. Prego. Infatti, è morto. Il destino. Siamo tutti nelle mani del destino. Mi scusi, mi aspetta un attimo. Non si muove, eh? Un secondo. Amici, un attimo di silenzio, scusate. Per cortesia, vi rubo pochi secondi. Silenzio, per cortesia. Silenzio, amici, voglio presentarvi una donna coraggiosa. Una donna che è venuta qui, nella nostra terra, per continuare il compito interrotto dal compianto giudice Marozzi. Quello di indagare su alcuni fatti criminali che purtroppo hanno infangato la nostra terra. Dunque, amici e amiche, questa donna ha bisogno di tutta la nostra comprensione. Questa donna ha bisogno di tutto il vostro sostegno morale. Amici, amiche, vi presento il nostro nuovo sostituto procuratore, Lidia Coletti. Grazie. Dottoressa, vuole dire qualcosa a lei? Credo che lei abbia già detto tutto, avvocato. Grazie per l'invito. Arrivederci, procuratore. Mi sembra una donna decisa. Sì. Sei preoccupata? Capito che a risolvere questo caso sarò da sola. Anch'io sono solo. Ma tu sei tenace. Vedrai che andrà tutto bene, non ti preoccupare. Ci sentiamo presto. Ciao. Buonanotte. Buonanotte. Grazie a tutti.